È un finanziamento di 180.000 euro dalla Regione Marche che va incontro alle strutture culturali. Questo intervento è un intervento sul Palazzo Ducale su un'ala che dà su Piazza del Mercato. Il Palazzo Ducale è una struttura di urbano, una struttura importante di circa 6.000 metri quadri e uno dei palazzi ducali del Ducato, dove per un certo punto della sua vita diventa anche corte, diventa centro del Ducato. Stiamo lavorando proprio per il recupero di questo palazzo, per la sua valorizzazione. All'interno abbiamo il grande museo, la grande biblioteca, un centro culturale di tutto l'entroterra. I lavori sono già iniziati e termineranno in qualche mese, ma poi il palazzo vedrà anche altri tre interventi, perché è oggetto di ulteriori contributi da parte dell'Europa, da parte di altri soggetti. Perciò oltre a questo vedremo nei prossimi mesi altri interventi. Questi interventi, comunque localizzati, non impediranno comunque la visita e la fruizione del palazzo.